John Olson e di Lewis Chiesa sono quelli che hanno fatto il lascito per restaurare la chiesa di Romaggi. È stata restaurata la cappella di San Michele, la cappella della Madonna della Neve, la cappella del Sacro Cuore, la cappella della Madonna Immacolata e tutta la zona organo, completamente tutta. E tutta la zona dietro l'altare è stata rifatta tutta da cima a fondo. Poche parole che hanno restaurato tutta la chiesa da cima a fondo. Hanno fatto un anno e due mesi di lavoro. Chi si è occupato dei lavori? La ditta Lussardi Mario è il restauratore Repetto Mauro e il decoratore Sergiolini Mauro. 111 mila dollari. Louis. John ha fatto 65 mila dollari. Teresa e Joey hanno lasciato 10 mila dollari. Robert e Susa hanno lasciato 5 mila dollari. Una parrocchia come questa sono soldoni, perché sennò non si riusciva a fare un lavoro del genere. Assolutamente. Quindi sono tutti contenti? Sì, tutti i parrocchiani sono tutti contenti. La gente è contenta. Dicono se non arrivavano loro, la nostra chiesa andava giù perché un quindici anni fa circa abbiamo fatto il tetto della chiesa. Tutto nuovo, per intanto da togliere l'acqua. E hanno partecipato tutti gli uomini dei romaggi a fare, tutti gratis. Quanti sono i parrocchiani romaggi? Di preciso non sono quarantina. Quanti sono i parrocchiani romanzi? Grazie a tutti.